Benvenuti da Claudio Brachino a questo nuovo format dell'agenzia di stampa Italpress, lo vedete alle mie spalle, è molto semplice, USA 2024 verso le elezioni negli Stati Uniti, verso le presidenziali, c'è stato un evento importante, le primarie dei repubblicani nell'Iowa, si attendeva un primo risponso concreto rispetto ai sondaggi che davano Trump favorito un po' da tutte le parti, noi così come facciamo abbiamo fatto per Radio Dessa in questi format sull'estero, teniamo il nostro racconto di 15 minuti con un corrispondente che in questo caso è Stefano Vaccara, lo saluto subito, che è con noi collegato da New York, esattamente si trova all'ONU, nelle varie stanzette dei corrispondenti dell'ONU e lo ricordo anche un po' al pubblico, è una corrispondenza che abbiamo attivato nell'ottobre dello scorso anno, quando Italpress ha celebrato il suo compleanno di 35 anni proprio a New York, che io ho moderato, diciamo così, la conferenza del compleanno nella sede new yorkese intesa San Paolo. Detto questo Stefano veniamo alle notizie, ha stravinto Trump, dici tutto, primo, secondo, terzo, quarto e le conseguenze politiche. Ciao Claudio, prima di tutto volevo salutare gli ascoltatori, che è il primo collegamento con te, mi fa tanto piacere questo collegamento, che arriva appunto in un giornato importante, perché ieri sera ci sono stati tanti record, non ha vinto solo Trump, ma ha stravinto battendo tantissimi record. Allora Iowa è un particolare, non è proprio una primaria, è un caucos con questi nomi un po' indiani, che ricordano i nativi americani quando si riunivano, perché fanno queste assemblee dove parlano, discutono e poi votano, in settini di carta, nei pizzini. Bene, Trump ha battuto tutto il rego, perché è la prima volta che un caucos repubblicano in Iowa ha superato addirittura il 50%, e c'erano tanti concorrenti, non era solo lui contro Nicchielli, ma era lui contro altri 4-5. E poi addirittura è andato subito così forte che le agenzie di stampa, come le televisioni, ancora il voto non era finito, cioè queste riunioni, questi caucos stavano ancora a discutere, loro l'hanno dato per vincente, perché? Perché i polli di entrata, la gente, ma oltre il 50% diceva che avrebbe votato assolutamente per Trump, e quindi è stata insomma una nottata da record. Ora, cosa significa questo? Cioè, era aspettato, guarda, io da, forse tu avrai visto qualche collegamento video che avevo mandato nelle scorse settimane, dicevo ma qua ci sono questi poll, questi sondaggi che danno Trump, che schiaccia tutti, ma non solo in Iowa, ovunque, e un po' c'era il sospetto, ma forse questi sondaggi sono, non so, non so, non so, c'era questo punto interrogativo. Bene, i sondaggi non solo hanno azzeccato, ma semmai in difetto, cioè l'ultimo sondaggio dava Trump al 48%, al 48%. Allora, ti voglio fare questa prima domanda, allora, tanto pensiamo i dati li sappiamo, li riassumiamo, 51 è qualcosa Trump, secondo Ron De Santis sarà lei terza, mi sembra che De Santis sia nelle condizioni per poco di continuare ancora la sua corsa, spegniamo un po' il pubblico, i due grandi partiti che si fronteggiano nelle elezioni, insomma tutti lo sanno, ma come sai Stefano, ripetita Juvent, noi siamo un'agenzia di stampa, e quindi raccontiamo con trasparenza popolare tutte le cose, traduciamo tutte le sigle, non diamo niente per scontato, ogni partito fa le primarie per stabilire chi sarà poi il candidato presidente. Allora, Trump ha stravinto qui nell'Aiova e probabilmente vincerà ancora e sarà probabilmente lui il candidato del Partito Repubblicano, Ron De Santis continua la corsa, la Alei la continua oppure no, che arriva da terza. No, Alei la continua perché il prossimo appuntamento che è in New Hampshire, che è uno stato del New England nel nord-est, beh lei lì, no, Trump è sempre in testa, però lì invece di avere 30 punti di distacco, Trump e lei ce ne ha 8, 9 punti, in più c'è questo fatto che, cioè spussa Trump a 9 punti di distacco, in più c'è il fatto che si è ritirato l'ex governatore del New Jersey, il sicolo americano, che lui è molto orgoglioso di essere di origini siciliane, Chris Christie, lui quando si è ritirato aveva un bel 11%, un bel pacchetto di, almeno i secondi sondaggi, nel New Hampshire, e siccome lui era l'anti-Trump, e ora l'anti-Trump dovrebbe essere Nicky Ali, si pensa che la maggior parte di questi voti si trasferisca su Nicky Ali, e quindi Nicky Ali ha delle speranze, anche se rimane favorito Trump, di riuscire a, magari a vincere. Ecco, se dovesse vincere in New Hampshire, e ancora sarebbe difficilissimo che lei riesca a ribaltare la situazione. Perché? Perché poi l'appuntamento dopo, importante, c'è un Nevada che però non è tanto importante, ma quello in Sud Carolina, è lo stato di Nicky Ali. Certo. Attenzione, non è soltanto importante perché lo stato di Nicky Ali, è uno stato dove, per esempio, Biden, quattro anni fa, resuscitò. Perché Biden, che andava sconfitto sia in Iowa che in New Hampshire, andò in South Carolina, vinse da lì, poi. Certo. E allora, Stanley dovesse far bene, benissimo in New Hampshire, e poi recuperare, però attenzione, anche se lo stato di Nicky Ali, dove lei è stata governatrice, se è passata, ne è passata di acqua sotto i ponti, adesso il South Carolina è trampista, cioè maga, perché c'è un governatore maga. E quindi lei è indietro nei sondaggi, nel suo stato. Insomma, la corsa è in salita. Grazie, ma Ronde Santis come lo vedi? E Santis era morto, cioè era molto essepolto, politicamente parlando, è riuscito però, per una manciata di voti, ad arrivare secondo, perché sennò avrebbe gettato la spugna, ha speso 30 milioni di dollari in Iowa, e se non arrivava secondo, veramente si sarebbe ritirato. Invece, riuscendo ad arrivare secondo, lui dice che continua. Ma dove va? Perché in New Hampshire l'ultimo sondaggio lo dava al 6%, 7%. In realtà De Santis è la coppia di Trump per bene, diciamo così. Cioè, parla senza essere troppo aggressivo, ma le idee sono le stesse, allora a un certo punto uno perché prende la coppia? Prende Trump. Senti, io come sempre in queste rubriche di esteri, insomma, oramai credo che la sensibilità dei cittadini, dell'opinione pubblica è aumentata tantissimo negli ultimi tempi sugli esteri, allora io prendo un po' le notizie che leggo sui media italiani e le confronto con i corrispondenti, con chi vive lì, no? E l'analisi oggi che veniva fatta è che il discorso che ha fatto Trump, una volta vinto in Iowa, è stato rispetto al discorso precedente, molto aggressivo sull'immigrazione, sulla politica estera, sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo, sul dialogo da recuperare con i dittatori, sulle tasse molto conciliante, con toni stranamente non trampiani, e anche di recupero paradossalmente anche di una specie di dialogo con gli sconfitti. E così mi confermi questo mutamento linguistico? Solo una parte, cioè è stato lui conciliante rispetto agli avversari, incluso i democratici. Cioè per la prima volta Trump ha detto dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi del mondo. Allora lì sì, era un Trump inedito perché nessuno l'aveva mai sentito parlare così. Però sui migranti, cioè sulla politica quindi che lui vuole, sui programmi che lui annuncia, no, lì lui non assolutamente, anche perché quelli sono diciamo il suo scavallo di battaglia, cioè se lui, a Eli contestano questo di non essere abbastanza decisa sui programmi per esempio contro i migranti o nella politica estera, lui ha detto che, lui cosa ha detto? Lui ha detto con me le guerre, si interrompono le guerre, riuscirò a fermare la guerra sia in Ucraina che in Medio Oriente. Ed è come ci riuscirà, ovviamente non lo sappiamo, ma questo diciamo che lui ha dei programmi forti dove lì, forse è la sua forza, dove gli dice, gli spiega in maniera semplice, senza giri di parole, lì è rimasto coerente con il suo messaggio fortissimo anche contro le migranti, il confine al sud. Diciamo che lui apre il fronte di guerra là, cioè interrompe la guerra in Europa e in Medio Oriente per aprirla lì. Ma per quanto riguarda la novità e sul rapporto, ma quella era una, diciamo che almeno io personalmente credo che lì è stata una mossa strategica della sua campagna elettorale perché vuol dare questo senso di inevitabilità. Cioè io ormai, ritiratevi, io sono il nominato e quindi gli dà un po' un promoscello lì, ritiratevi. Allora, senti, mancano cinque minuti, voglio fare due domande, di solito ne faccio tre perché amo molto il ritmo, quindi diciamo dare più cose possibili al pubblico senza correre ovviamente perché dobbiamo spiegare le cose. Una, allora questo percorso dei repubblicani l'abbiamo avviato e abbiamo raccontato. Parliamo un secondo dei democratici, poi parliamo un secondo dei problemi secondo me internazionali dell'America in questo momento che incideranno sulla campagna elettorale o Biden che comunque attualmente è il presidente e farà probabilmente insomma la corsa per i democratici potrebbe mutare delle cose in politica estera in relazione alla campagna elettorale. Andiamo per ordine, tocca se non sbaglio la prossima settimana i democratici, ma sarà Biden secondo te il candidato dei democratici? Non c'è una sorpresa all'ultimo che possa comparire per affrontare Trump una figura più giovane che si tira fuori dal cilindro diciamo così a sorpresa? Allora i democratici in realtà non tocca la prossima settimana, loro hanno rinviato un po' di più e proprio partiranno dalla South Carolina loro che la faranno prima dei repubblicani e le ragioni sarebbero troppo complicate a spiegare perché hanno fatto ma Biden appunto che aveva perso in Iowa e aveva perso pure in New Hampshire hanno fatto in modo che il partito, insomma questi due stati li ha fatti lì li fa andare dopo, più tardi, soprattutto l'Iowa e quello che succede è questo, sì, ora come ora è Biden, no? Il presidente del Partito Democratico ovviamente è il capo del partito però ci sono ora voci, quanto sono forti queste voci che effettivamente se la situazione rimanesse così, c'è Trump nominato allora Biden, che sembra un po' surreale il tutto, ma resta un cavallo forte perché i sondaggi tra Biden contro Trump li danno praticamente alla pari un punto sopra Trump in un sondaggio e un punto sopra Biden in un altro sondaggio d'altronde Biden ha vinto quattro anni fa e allora probabilmente e lo dicono apertamente i democratici, cioè i democratici vogliono Trump almeno quelli che stanno con Biden ma se invece ecco succedesse una specie di miracolo, di ribaltamento oppure attenzione che c'è tutto il filone dei processi cioè se poi Trump dovesse andare a finire veramente male per lui e Nicky Eli, che sembra più probabile, dovesse diventare la nominata e allora lì cambia tutto, perché per ora Nicky Eli, secondo un sondaggio del Wall Street Journal ha 17 punti di vantaggio su Biden e quello peraltro è il discorso che ha fatto Biden Eli, ieri sera, lei che sembrava trionfante, cioè è arrivata terza ma parlava con una che avesse vinto ha detto, ha ripetuto ai repubblicani pensando soprattutto agli hamster guardate che con Trump rischiate di perdere e poi ha detto di avere addirittura la Harris cioè Kamala Harris, la vicepresidente come presidente perché? Perché Biden è molto anziano e magari non riuscirebbe a finire il mandato mentre con me io vinco e parla dei sondaggi quindi ecco Biden dipende se rimane Trump o no tutto molto chiaro, ultima domanda di stretta attualità Biden sta dando all'America di nuovo il ruolo diciamo di guardiano del mondo interviene l'America sullo stretto che fa entrare le navi per cantine nel Mar Rosso che ora i ribelli dello Yemen, gli Uzi si stanno bombardando, costringendo le navi a navigare all'Africa e a portare le merci in Europa a prezzi alzati con innalzamento dell'inflazione abbiamo raccontato queste conseguenze tante volte ma questo ruolo dell'America Biden riesce a sostenerlo in campagna elettorale? Beh, si dice che si deve cioè io non vedo grandi quindi anche se in Italia e in Europa le vedono soprattutto nel rapporto con l'Europa è vero, c'è delle grandi differenze per esempio tra un'amministrazione Biden e un'amministrazione Trump però in generale sul ruolo geopolitico degli Stati Uniti io non vedo grandi differenze forse di stile questo di stile però ricordiamoci che quando Trump dice ah io con me pace ma ricordiamoci che anche i missili partivano con Trump e voglio dire non c'è questa grande differenza Biden fa quello che deve fare perché è al comando della più grande potenza almeno militare del mondo e io non credo che se dovesse cambiare amministrazione Trump o non Trump cambierebbe tanto a livello geopolitico ci sarebbe un cambiamento di sfumature però quando Trump dice con me io cambio tutto ecco lì forse la sua più grande bugia elettorale beh insomma ricordiamo l'abbiamo detto tante volte anche noi tra virgolette opinionisti europei che poi alla fine la caccia tra virgolette a Osama Bin Laden l'ha conclusa non un repubblicano che aveva la visione del mondo dei Bush ma l'ha conclusa un signore che si chiamava Obama e che insomma con un blitz che ha fatto discutere in termini umanitario un po' tutto il mondo questo lo abbiamo ricordato quindi per dire che è vero che la politica estramericana spesso i repubblicani e i democratici continuano a un fil rouge che è del paese intero noi magari europei soprattutto italiani fatichiamo a capire questo senti Stefano io ti ringrazio per questa prima puntata che io insomma trovo mi sembra interessante che abbiamo dato al pubblico italiano tutte le notizie giuste e ci risentiamo e insomma do un po' un percorso per questo 2024 non solo USA 2024 ma anche ITAL presso il 2024 rispetto alle elezioni noi questo format lo faremo a episodi seguendo le primarie man mano che diventano più importanti poi lo faremo direi con una maniera costante man mano che ci avvicineremo alle elezioni che speriamo di poter seguire anche in diretta negli Stati Uniti insomma vengono in presenza magari vengo a New York e stiamo insieme e lo facciamo insieme speriamo ti aspetto grazie ancora e grazie a voi che ci avete seguito la prima puntata di USA24 finisce qui arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.